La preghiera è la prima forza della speranza. Tu preghi e la speranza cresce, va avanti. Io direi che la preghiera apre la porta alla speranza. Tutti siamo capaci di portare gioia. Questa vita è il dono che Dio ci ha fatto. Ed è troppo breve per consumarla nella tristezza, nell'amarezza. L'odiamo Dio, contenti semplicemente di esistere. Guardiamo l'universo, guardiamo le bellezze e anche guardiamo le proprie croce. Dice, ma tu esisti, tu ci hai fatto così per te. E sentire quella inquietudine del cuore che mi porta a ringraziare e a lodare Dio. Grazie a tutti. Grazie a tutti